Citroen DS3 1.6 68 kW modello AirDream SoChic una vettura per veri sportivi immatricolata nel 2012 ha percorso 131.000 km esteticamente è veramente molto molto bella uno sguardo agli interni dotazione ricchissima abbiamo il navigatore, la climatizzazione automatica una radio da urlo, il telefono bluetooth e chi più ne ha più ne metta questo è il regolatore di velocità chilometraggio naturalmente certificato sui sedili posteriori potete agganciare i seggiolini dei vostri bambini con attacchi Isofix chiamate subito o mandateci un whatsapp ciao ciao